Promo Disco Promo Disco, la musica da promuovere per giovani talenti Giovani talenti Ed eccoci qua, ci siamo radiotrasportati a Torino quindi dal benvenuto a Marco Migliore Ciao Molly, ciao Ciao, ben trovato, un duo di amicizia perché a quanto pare insieme a Paul Marino, a Paolo Marino voi siete amici di Vecchia Data Raccontaci un po' Esatto, esatto, noi ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni ci siamo conosciuti a scuola e praticamente da subito è nata questa passione condivisa della musica siamo stati sempre sulla stessa frequenza e crescendo abbiamo iniziato anche a provare a fare qualcosa insieme dividendoci chiaramente i ruoli c'era chi si capace a fare una cosa e chi un'altra e adesso abbiamo deciso di provare a condividere questa cosa con tutti sentendoci a fare qualche singolo, qualche pezzo Tra l'altro mi sembra di aver capito che voi avete creato proprio un vostro studio quindi insomma siete totalmente indipendenti quindi vi muovete da soli Esatto, noi facciamo tutto a casa praticamente abbiamo creato una stanza apposta dove abbiamo proprio uno studio di registrazione personale con tutti gli strumenti, tutti i computer, tutto quello che ci serve e siamo totalmente indipendenti sia appunto dal lato di produzione della musica che anche da quello del video perché proprio nella nostra ultima canzone abbiamo anche fatto un video un official video ed è stato interamente prodotto da noi Eh visto tutto, tutto fatto da voi questa è una cosa bellissima tra l'altro noi ti informo poi lo gireremo anche sulla nostra pagina Facebook quindi avremo modo, noi abbiamo questo piacere di condividere di condividere anche a mezzo social quindi di dare un'ulteriore vetrina agli artisti e quindi è una cosa che ci fa molto molto piacere io saluto e ne approfitto anche agli amici che stanno seguendo questa diretta sulla pagina Facebook di Radio Gela Express e poi volevo chiederti, questo è il primo singolo? No, questo non è il primo singolo e adesso ormai sono due anni che ci siamo lanciati tra virgolette del mondo della musica e è il terzo singolo che produciamo Quindi prima c'è intorno a te, poi Spritz e adesso invece oggi presentiamo Solo Una Notte che tra l'altro ci porta un po' anche nel periodo che abbiamo attraversato quello forte, quello che veramente ci ha lasciato un po' senza fiato stiamo parlando del periodo del lockdown quindi credo che questo sia stato uno dei motivi che vi ha spinto anche a creare questo inedito ma insomma presentaci tu dove ci porta questo inedito Solo Una Notte Solo Una Notte come hai già detto te parla innanzitutto di quello che stiamo vivendo adesso perché comunque in realtà purtroppo non è ancora finito questo momento difficile e quindi insomma parla della voglia di ricominciare, di ripartire che comunque l'estate che adesso ormai è terminata però ci ha aiutato a provare a tornare a vivere un po' alla normalità e parla anche del purtroppo il fatto che questi distanziamenti abbiano magari fatto perdere di vista determinate persone che non riusciamo più a vedere come prima e comunque tutto ruota sempre intorno al sentimento dell'amore e la forza e la voglia di ricominciare Però però dicevi che ci sono sentimenti in realtà che si sono anche spenti a causa di questo quindi questo è un altro punto di vista da sottolineare perché in alcuni casi ha creato invece delle fratture È un distanziamento sociale ma anche di emozioni è tutto a nostro vantaggio quello che stiamo vivendo A Rini approfitto assolutamente il mio collega Zaira Shine che spero di avere appena si potrà anche ospite qui in radio così come ci siamo promessi di fare e che sta seguendo questa diretta che ama ascoltare gli inediti e quindi ascoltare la buona musica Ecco in assoluto, questo brano merita di essere ascoltato Dacci le info, quindi indirizzo, pagina social, YouTube insomma tutto quello che ci può permettere di continuare a seguirvi ovviamente anche dopo questa intervista Certo, allora YouTube il video lo trovate sulla pagina YouTube On Production Tutorial Sì Appunto il canale ufficiale Il titolo del brano appunto è Solo Una Notte Mentre per quanto riguarda i nostri profili social sono il mio è Erme Triple Underscore 93 Sì E l'altro è Polem 92 Perfetto, noi salutiamo Marco Migliore e Paolo Marino e il duo Erme e Paul e noi ascoltiamo Solo Una Notte ma vi aspettiamo ancora qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express quindi alla prossima Grazie Molly, ciao Ciao, ciao Sarà questa un'estate per ballare Chiuso in casa non ci voglio più restare Recuperare il tempo perso con gli amici Senza il pensiero di rientrare per le decine Ecco che arrivi Anche stasera sei divina Con quel vestito Faresti invidia anche alla luna Non sei più mia Ma io non ti cancello affatto Dentro al mio iPhone Sei sempre il mio primo contatto Balla stanotte Balla stanotte Tu balla con me Senti quel ritmo nella tua testa Almeno per una notte sola Quel che domani Perché domani poi si vedrà Non è come pensi ma come ti senti Siamo stati divisi e poi ci siamo persi Il tempo che volano stiamo crescendo Come i tamagocci da dire l'intendo Sui coi bicchieri al cielo stanotte La spiaggia è la stessa che vedi un'estate La felicità è nelle piccole cose Con me sugli scogli e onde schiumose Non sei cambiata Hai fatto la tua strada La mia chitarra Per te io non l'ho mai scordata La nostra vita È un treno che guidiamo Ma solo noi Decidiamo dove andiamo Balla stanotte Tu balla con me Senti quel ritmo nella tua testa Almeno per una notte sola Quel che domani poi si verrà Balla stanotte Dai balla con me Perdi i sogni nell'immensità Da questa notte non sei più sola Dai che domani poi si vedrà Balla con me Senti quel ritmo nella tua testa Il tuo sorriso tornerà I sogni sono rimasti là Distanti in metro come ormai Siamo costretti a stare noi Balla per una notte sola Senti quel ritmo nella tua testa Almeno per una notte sola Quel che domani poi si verrà Allora amici Intanto bello il piacere di sentire ancora brani Che hanno voglia di trasmettere pensieri positivi Voglia sempre di ripartenza Di non perdersi d'animo Quindi ringraziamo Marco Migliore e Paolo Marino Il duo Erme e Paul E abbiamo ascoltato solo una notte Ma ne approfitto Salutiamo anche gli amici che ci seguono Quindi ne approfitto per salutare Ecco intanto mando un cuore Perché insomma per tutte le emozioni Che abbiamo condiviso E quindi saluto Pasquale Trubia Kevin Quartorone che dice bellissima canzone E poi Zaira Sciani che abbiamo salutato Ma le sottolinea Quindi rivolge un buongiorno a Gaetano Quindi noi ricambiamo ovviamente Ricambia tutta la redazione Gaetano Casciano ovviamente Lo includiamo i saluti Sicuramente ti leggerà con molto piacere E a questo punto ritorniamo ovviamente A stare insieme fino alle 13 Con Mollibito Programma Radio in diretta Quindi chiudiamo ovviamente questa diretta Facebook Che vi aspetta domani Sempre alle 11.40 A momento in cui ascoltiamo inediti Nuove voci, nuove storie Conosciamo nuovi artisti Quindi chiusura del Promodisco Promodisco La musica da promuovere per giovani talenti Giovani talenti Mollibit Con Molli Narciso Più spazio alle parole Più spazio alla musica Radio Cielo Grazie a tutti Grazie a tutti